Conflitto di interessi sollevato dall'ANAC, l'IOP diffida la struttura commissariale e annulli tutti gli atti firmati dal subcommissario Papa. Servizio di emergenza urgenza alle associazioni del 118 in conclave per valutare la nuova proposta di affidamento del servizio. Ampliamento del consorzio di bonifica della Piana di Venafro, Passarelli risponde a Nola, ciò che ora critica voleva realizzarlo lui in passato. Centro Alzheimer a Isernia, dalla struttura commissariale l'impegno ad aprile entro giugno, esposito non mi fido, vigilerò. Intelligenza artificiale per combattere il cancro, l'Irx Neuromed darà il suo contributo nell'importante percorso. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TVI Molise. Apriamo questo notiziario con una notizia riguardante la sanità. Nuovo colpo di scena nei rapporti tra struttura commissariale ed operatori della sanità privata. Infatti l'Aiop, la loro associazione, ha impugnato tutti i decreti firmati dal subcommissario Giacomo Papa, contestando la loro nullità dopo la decisione dell'ANAC di sollevare il conflitto di interessi per l'avvocato di Boiano. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Notizia delle ultime ore, si parla sempre della guerra senza quartiere scatenata da Donato Toma contro la sanità privata. Il colpo di scena questa mattina quando si è saputo che l'Aiop Molise, l'associazione degli operatori della sanità privata, ha impugnato tutti gli atti della struttura commissariale contestandone la nullità dei provvedimenti perché firmati da Giacomo Papa, subcommissario in odore di incompatibilità e conflitto di interessi, su segnalazione dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Organismo che aveva sollevato la questione rimandando i provvedimenti al Consiglio dei Ministri. Intanto però l'Aiop Molise procede per chiedere l'annullamento di tutti gli atti, compresi quelli della ristrutturazione selvaggia della direzione salute svuotata di funzionari spostati a supporto dei commissari. E qui interviene anche Michele Orio a difesa della direzione regionale salute. Stanno lavorando sotto organico. L'organico è stato malamente ridotto dal presidente della regione che si è fatto una struttura commissariale sottraendo 5 o 4 funzionari, è un dirigente all'attività normale. E quindi in molti settori si lavora con una sola persona, anche settori vitali che riguardano per esempio il pagamento delle prestazioni ai privati e tutta una serie di altre cose. Rispetto a prima sicuramente c'è una struttura che è sotto stimata sul piano numerico. Sul piano qualitativo invece è assolutamente preparato, per cui credo che non ci sarà nessun problema. Blitz dei Nass di Campobasso nei canili pubblici e privati al fine di accertare la corretta conduzione delle strutture ed in particolare lo stato di benessere degli amici a quattro zampe. Ispezionate 10 strutture sul territorio regionale, di cui 2 sono risultate irregolari per carenze igienico strutturali. Inoltrata all'autorità sanitaria la proposta di chiusura per una struttura di ricovero per mancanza di autorizzazione al funzionamento. I controlli effettuati dai Nass rientrano in un'operazione più a largo raggio che ha riguardato tutta l'Italia ed è stata organizzata di concerto con il Ministero della Salute. Troppo poche le istanze pervenute e ritirata è subito riformulata dall'ASREM la manifestazione di interesse per assegnare in via temporanea il servizio di 118. Le associazioni si sono riunite per valutare il nuovo provvedimento. Vediamo. Siamo davanti alla postazione del 118 presso l'ospedale veneziale di Isernia. Sembra essere ancora lontana l'individuazione di una soluzione definitiva per quanto riguarda la vicenda relativa al servizio del 118 sul territorio regionale. L'ASREM aveva recentemente pubblicato un avviso per l'assegnazione in via temporanea del servizio in convenzione ma l'avviso non ha ricevuto il numero sperato di domande di partecipazione, di adesioni e quindi l'ASREM è stata costretta con un provvedimento del direttore generale Oreste Florenzano a sospenderlo e l'avviso attualmente è stato riformulato e ripubblicato. Proprio in questo momento le associazioni che gestiscono la rete dell'emergenza e urgenza sul territorio molisano sono in riunione, si stanno confrontando per visionare il nuovo bando e capire quali sono le modifiche che l'azienda sanitaria molisana ha apportato rispetto al provvedimento precedente. La manifestazione di interesse per l'assegnazione e l'affidamento in via provvisoria del servizio di 118 aveva fatto seguito alla pubblicazione di un bando lo scorso 15 dicembre da parte dell'ASREM che le associazioni avevano ritenuto al momento, all'epoca, inaccettabile. Bando che tuttavia resta ancora in vigore, i contenuti dell'avviso però non avevano ricevuto l'opinione favorevole di chi gestisce il servizio di emergenza urgenza che aveva fatto presente come le condizioni del bando non fossero equiparabili neppure al precedente avviso emanato nel 2019. Tra i vari rilievi che le associazioni avevano formulato nei confronti del bando c'era l'individuazione di una sola persona assunta per ogni veicolo con un rapporto di 5% di personale assunto contro un 95% di personale volontario. Resta ora da capire come si evolverà nelle prossime ore la situazione se le associazioni riterranno favorevoli le condizioni proposte nella nuova manifestazione di interesse emanata dall'ASREM è già disponibile sul sito internet dell'azienda sanitaria regionale. Sospensione delle prescrizioni per le prestazioni di radioterapia Il capogruppo di Orgoglio Molise in consiglio regionale Gianluca Cefaratti chiede le dimissioni immediate del commissario ad acta per la sanità Donato Toma e del subcommissario Giacomo Papa richiesta dovuta alle dichiarazioni rilasciate da Toma in consiglio regionale secondo cui il blocco delle prescrizioni si baserebbe su un parere espresso dal ministero tuttavia, ferma Cefaratti in una nota a leggere il parere ministeriale emerge una verità diametralmente opposta ovvero, scrive il capogruppo di Orgoglio Molise è stata rappresentata la possibilità da parte della struttura commissariale della regione di valutare l'opportunità di autorizzare i medici del Gemelli atteso che è l'unico istituto sul territorio regionale accreditato a derogare trattamenti di radioterapia Il commissario aggiunge piuttosto che occuparsi esclusivamente della questione legata ai privati convenzionati avrebbe dovuto trovare soluzioni per ridurre la cosiddetta mobilità passiva che in questi ultimi anni ha gravato per circa 80 milioni di euro sul bilancio regionale non si comprende inoltre, conclude Cefaratti per quale motivo le stesse strutture private convenzionate sono ancora in attesa di ricevere i pagamenti corrispondenti al bimestre settembre-ottobre 2022 ampiamente scaduti oltre che ulteriori e fondamentali risorse per le stesse relativi agli anni precedenti Giorno dopo giorno non conosce tregua la guerra che infiamma il fronte della sanità molisana ieri sera il presidente del Gemelli ha annunciato ai suoi dipendenti difficoltà a pagare gli stipendi il prossimo 27 gennaio intanto sempre il Gemelli sta impugnando la decisione di Toma sulla radioterapia e accusa il commissario di aver raccontato delle bugie ci dice tutto Enzo Di Gaetano Ieri sera Stefano Petracca, presidente del Gemelli ha convocato personale Sinacati e ha annunciato difficoltà a pagare gli stipendi di gennaio si tratta di 470 lavoratori tra sanitari e parasanitari e amministrativi che il 27 di questo mese non riceveranno il loro stipendio la decisione dopo che la regione ha fatto sapere al Gemelli di non essere in grado di pagare le fatture di settembre-ottobre il tutto mentre è in atto una nuova lite giudiziaria con la fondazione dopo il decreto di Toma che ha tolto la facoltà di prescrivere le cure radioterapiche ai medici di Contrada Tappino insomma un nuovo casus belli nel teatro di guerra della sanità molisana come è noto il commissario governatore ha dichiarato in consiglio regionale proprio ieri che dopo un suo specifico quesito fatto al Ministero della Salute sarebbe stato necessario ritirare i ricettari al Gemelli perché l'istituto di Contrada Tappino non avrebbe avuto titolo a prescrivere cure radioterapiche me lo ha scritto il Ministero ha affermato Toma in consiglio regionale per cui il Gemelli non può effettuare prescrizioni immediata e sferzante la risposta della fondazione Toma dice le bugie quello che ha affermato in consiglio regionale non è vero a questo punto abbiamo recuperato la lettera del Ministero e abbiamo dato un'occhiata in effetti a pagina 2 è scritto che ove non sia possibile qualificare il Gemelli come policlinico universitario la risposta è negativa non può fare le prescrizioni ma non bisogna fermarsi alla pagina 2 perché andando a pagina 4 si scopre che il capo dell'ufficio legislativo fa delle dovute eccezioni e scrive che in assenza di presidi pubblici che eroghino trattamenti di radioterapia le prescrizioni possono essere delegate ai medici di base e ancora nel caso in cui nel personale del Gemelli ci sia personale medico universitario non ci sono elementi per negare le prescrizioni alla fondazione e guarda caso il primario di radioterapia al Gemelli è un docente universitario il professor Deodato e infine qualora il Gemelli sia l'unica struttura che eroghi la radioterapia in Molise la struttura commissariale ha tutta la possibilità di autorizzarla alle prescrizioni in conclusione Toma nella sua lettura della missiva del ministero si è fermato a pagina 2 sarebbe bastato che fosse andato fino alla pagina 4 per capire che aveva detto una cosa non vera in consiglio regionale e ora gli toccherà pagare i danni perché il Gemelli ha già dato mandato ai suoi legali di procedere contro la struttura commissariale chi ne fa le spese però di tutto ciò sono i poveri malati molisani di tumore e i dipendenti del Gemelli che non verranno pagati aprendo un'altra crisi occupazionale in una regione che sta diventando un cimitero hanno caricato su un furgone due semafori installati sulla statale 16 poi convinti di aver agito indisturbati sono scappati ad accorgersi di quanto accaduto come riporta l'Ansa una guardia giurata impegnata in un servizio sul litorale molisano mentre percorreva la statale nei pressi del Vivio per Guglionesi la guardia giurata ha seguito il mezzo allertando i carabinieri di Termoli che dopo un inseguimento di diversi chilometri sono riusciti a bloccare il furgone al confine con la Puglia i tre malviventi sono però riusciti a fuggire dileguandosi a piedi nelle campagne circostanti i due semafori sono stati recuperati e restituiti alla ditta utilizzo dei fondi e ampliamento del consorzio di bonifica della piana di Venafro Passarelli risponde a Nola ciò che ora critica voleva realizzarlo lui in passato ce ne parla Domenico Marzocchella un'interrogazione che a suo parere non sta proprio in piedi Stefania Passarelli replica ai 5 Stelle ma soprattutto al consigliere regionale venafrano Vittorio Nola che sull'utilizzo dei fondi e sull'ampliamento del consorzio di bonifica della piana chiedono a Toma perché la regione non sia stata interpellata dai pentastellati dubbi sulle deliberazioni con cui l'ente consortile ha dato il via al progetto di ampliamento del comprensorio irriguo ai territori campani di Capriati e Torcino rispetto alla piana di Venafro sorgono sull'altra sponda del fiume Volturno per collegarli bisognerà realizzare un ponte anche questo contestato per via dell'impatto ambientale tra i rilievi l'impegno di fondi consortili quindi conferiti dai coltivatori della piana per opere esterne il riferimento al depuratore del nucleo industriale di Pozzilli un punto che la presidente di quell'insediamento produttivo smentisce con forza Intanto consiglierei al consigliere Nola di leggersi prima le carte prima di scrivere e di intasare il consiglio regionale su argomenti futili che sono meramente per scopi politici e che nulla hanno a che fare con il buon andamento della regione visto che di problemi ne abbiamo tanti quali trasporto e sanità si dedicasse più a queste cose In tutti i modi per quanto riguarda il depuratore così scrive di questi presunti finanziamenti il direttore del consorzio ha presentato un progetto a CIS Acque che tra le altre cose prevede la raccolta di acque che provengono dal consorzio industriale acque bianche, quindi acque da pioggia per depurarle e per darle in uso alla piana di Venafro e quindi agli agricoltori Questi sono progetti molto ambiziosi è un progetto che è stato portato avanti dall'Ambi l'Ambi nazionale e sono progetti finanziati dalla comunità europea quindi il consorzio industriale di Pozziglie e del suo depuratore ha avuto già un restyling con un finanziamento di un milione e quattro fatto da Air Ambiente e il consorzio industriale non ha mai chiesto fondi per portare avanti sia il depuratore e sia il consorzio industriale in sé quindi mai finanziamenti dalla regione per fare delle opere soprattutto in questi anni che hanno visto la mia presidenza dal 2015 ad oggi E sulla questione dell'ampliamento del comprensorio Enriguo Passarelli questa volta nella veste di consigliere del consorzio di Bonifica si dice sorpresa sul suo profilo Facebook copie di un analogo progetto anche più ampio e precisa proposto anni addietro dallo stesso Nola Sono progetti che il presidente Nola che stava al consorzio di Bonifica aveva portato avanti già negli anni 2013-2014 che poi non è riuscito a fare una progettazione che poi non è riuscito a fare questo ampliamento non è riuscito a fare le convenzioni e anche all'epoca nel 2015 quando io entrai come presidente al consorzio industriale lo ricordo benissimo che già facemmo degli incontri su questi argomenti soprattutto sul ponte che il presidente Nola partecipò sia al consorzio industriale alla vecchia sede e sia alla provincia a Caserta non so come definirla cioè laddove non arrivo io non voglio che gli altri arrivano Eppure si dice nell'interrogazione i territori sarebbero soggetti a vincoli paesaggistici naturalistici Ma questo sicuramente ma per fare queste opere ci saranno dei progetti ci saranno delle conferenze di servizi quindi le conferenze di servizi decideranno se l'opera è realizzabile o non è realizzabile nel momento in cui ogni organo che fa parte della conferenza di servizi sovrintendenza, beni ambientali, regioni comuni, provincia diranno il loro no non c'è problema se però l'opera è realizzabile non è che ogni cosa che dobbiamo fare perché passa o non passa su un terreno di qualcuno o di qualcun altro un'opera non si può fare Intanto è arrivata da Campobasso la notizia che l'Assemblea dei Sindaci Molisani convocata per discutere circa la riconferma del direttore generale Asrem Oreste Florenzano ha votato esprimendo fiducia nei suoi confronti quindi per i primi cittadini molisani Florenzano può restare al suo posto il servizio con le interviste andrà in onda nella nostra rassegna stampa di domani mattina e veniamo ora agli aggiornamenti sul fronte Covid in Molise in base ai dati divulgati oggi attraverso il bollettino Asrem il numero di positivi odierni ammonta a 1.441 unità ovvero un livello tra i più bassi degli ultimi periodi i nuovi casi registrati sono 16 su un totale di 204 tamponi processati tra molecolari e antigenici le persone guarite sono 344 i pazienti dimessi sono 2 e i posti letto Covid attualmente occupati al Cardarelli sono 8 di cui 6 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva e a Campobasso è diventata realtà la casa destinata ai ragazzi con sindrome di Down situata in un appartamento di Via Roma ci spiega tutto Francesco Adamo una casa per domani è diventata realtà è stata infatti inaugurata oggi in Via Roma 52 a Campobasso un appartamento allestito dall'associazione IPD con il supporto di Intesa San Paolo e Fondazione Cesvi saranno i ragazzi con sindrome di Down ad abitare la casa per domani con l'apertura del portone partirà un'altra fase del percorso di giovani donne e giovani uomini che già da anni sono attivi per conquistare l'indipendenza a girare la chiave Luca Trapanese assessore comunale di Napoli che gira l'Italia raccontando la sua storia di padre single che nel 2018 ha adottato Alba bambina con sindrome di Down Sì oggi dobbiamo ringraziare Giovanna Grignoli e l'APD di Campobasso come comunità tutta perché immaginare progetti del genere per le persone con la sindrome di Down ma anche per le persone disabili in genere significa non solo dare loro la possibilità di essere autonomi indipendenti e di un futuro di vita ma soprattutto rasserrenare le famiglie perché questo è il problema più grande come genitore di una bambina con la sindrome di Down posso garantire che il primo pensiero è che quando io non ci sarò più chi penserà a mia figlia oggi l'APD ha dato questa grande opportunità grazie a una rete di enti che si sono uniti e che hanno realizzato questo progetto e io spero che ce ne saranno tanti altri Luca Trapanese ha adottato dopo l'abbandono da parte della madre la piccola Alba e poi ha scritto un libro per raccontare la sua versione dei fatti e sfidare i pregiudizi e la paura della disabilità che Alba è una bambina come tutte le altre bisogna andare al di là della disabilità dobbiamo iniziare a diciamo sdoganare il concerto della normalità non esiste chi può dire che io cosa è normale siamo tutti imperfetti siamo tutti disabili difettati ma dobbiamo partire dalle nostre capacità ognuno di noi ha delle capacità diverse e Alba mi insegna ogni giorno ma come tutti i ragazzi con la sindrome Down che attraverso le loro capacità possiamo scoprire un mondo bellissimo ma l'importante è dare loro l'opportunità di realizzarsi Gli agenti della sezione antidroga della questura di Campobasso hanno fermato nei pressi del terminal bus un trentenne trovato in possesso di un grammo di eroina in un pacchetto di sigarette a seguito di una perquisizione personale più approfondita sono stati rinvenuti altri 19 grammi di eroina occultati all'interno di un pantacollant che lo stesso indossava per un totale di 20 grammi di eroina infine nell'abitazione del ragazzo sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione delle buste di cellofan e della carta argentata oltre ad altro materiale utilizzato presumibilmente per confezionare gli stupefacenti il trentenne è stato denunciato per il reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio Centro Alzheimer a Isernia dalla struttura commissariale dai vertici ASREM l'impegno ad aprire entro giugno esposito non mi fido vigilerò lo ha sentito per noi Domenico Marzocchella Centro diurno per malati di Alzheimer a Isernia per l'apertura c'è un cronoprogramma è il frutto del recente incontro tenutosi a Campobasso tra i diversi attori che dovranno concorrere all'attivazione di un servizio che nella provincia Pentra è atteso da anni al tavolo il commissario e il sub commissario alla sanità Toma e Papa insieme ai vertici ASREM Florenzano e Gallo un'opportunità imperdibile per il presidente dell'associazione non ti scordar di me Bruno Esposito che per tenere alta l'attenzione sulla questione è da tempo protagonista del presidio permanente davanti alla regione nella provincia di Sernia rimarca Esposito sono circa 600 i malati c'è stato il sindaco che ha garantito la consegna di questi locali alle nostre spalle entro il 30 aprile sistemati e pronti per essere utilizzati secondo le caratteristiche che le sono state indicate dall'ufficio tecnico dell'ASREM c'è da installare un ascensore esterno un ascensore per arrivare al secondo piano e una sistemazione del giardino che è una cosa molto utile a noi e alle nostre attività questo entro il 30 aprile 2023 precisiamo anche l'anno non è sbagliato e poi lo step successivo? lo step successivo è appunto passa poi la palla all'ASREM e il direttore generale presente insieme anche al direttore amministrativo hanno garantito che in due mesi quindi entro il 30 maggio il servizio verrà attivato è un servizio che dovrà garantire si tratta di un centro diurno anche il prolungamento orario almeno per due giorni la settimana mi diceva fino alle 17 17.30 certo deve essere un servizio diurno che comincia alle 8.30 e finisce alle 1.30 per tutta la settimana dal lunedì al venerdì o al sabato poi se è necessario perché poi tutto dipende anche dalle esigenze delle famiglie e deve avere almeno due o tre tempi prolungati così come stanno facendo a Campobasso e così come è utile alle famiglie per poter convivere in maniera più dignitosa con la mulattia sapendo che i loro cari sono in un centro regolarmente gestito da chi è competente e possono vivere tranquillamente la loro vita e dunque se tutto andrà bene l'apertura fissata a giugno un mese importante questo per il Molise l'apertura fissata a giugno in una data da destinarsi e in concomitanza con le elezioni e questa cosa io sinceramente la vedo molto male perché le promesse in questi periodi fioccano come la neve e quindi per me anzi io sono sicuro che non vedremo realizzata nessuna di queste di queste nostre aspettative ovviamente se la cosa dovesse avvenire sono contento vigilerò e sarò loro sul fiato sul collo finché non si apre questo centro venerdì 27 gennaio alle ore 10 presso l'aula magna dell'università degli studi del Molise in occasione della giornata della memoria avrà luogo una manifestazione celebrativa al fine di ricordare la Shoah l'evento promosso dalla prefettura di Campobasso in collaborazione con l'unimol l'ufficio scolastico regionale ed il conservatorio di musica perosi prevede la presenza ed i rappresentanti di enti ed istituzioni territoriali e la partecipazione di delegazioni di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado del comune di Campobasso in occasione della giornata della memoria il comune di Campobasso proporrà una piese dal titolo ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile ci parla di tutti i dettagli Francesco Adamo il comune di Campobasso per la giornata della memoria proporrà alle classi terze degli istituti comprensivi di Campobasso la piese di teatro musicale ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile l'iniziativa è stata presentata a Palazzo San Giorgio da parte del sindaco Roberto Gravina dall'assessore alla cultura Paola Felice e dalla direttrice dell'associazione Amici della Musica Walter De Angelis Antonella De Angelis un evento in maniera particolare agli alunni delle classi della terza secondaria di primo grado quindi la terza media per il giorno della memoria è una pièce teatrale che andrà in scena anche la sera del 28 gennaio nell'ambito del programma degli Amici della Musica e quindi abbiamo pensato di mettere in scena anche un mattinè affinché anche i ragazzi potessero poi fare delle riflessioni infatti vi inviteremo a lasciarci poi un contributo rispetto alle emozioni che questo evento succederà innanzitutto stiamo portando avanti l'impegno di intitolare un luogo al Capitano Tosti di cui già parlamo nello scorso anno infatti abbiamo appena inoltrato alla Prefettura una richiesta di nulla osta e anche la nostra Bibliomediateca comunale metterà a disposizione uno scaffale con una bibliografia dedicata quindi l'impegno è a 360 gradi ovviamente è maggiormente rivolto alle nuove generazioni perché sono quelle che ovviamente non hanno più contatto o un'esperienza come dire riportata da persone in vita che gli possano raccontare che cosa è successo e a tal proposito noi inviteremo sicuramente anche la senatrice Segre e anche il dottor Montagano che sono i nostri cittadini benemeriti proprio perché riteniamo che poi la testimonianza sia importante e per i ragazzi avere degli interlocutori che ancora mantengono viva la memoria è importante una iniziativa fortemente voluta dall'associazione Walter De Angelis la memoria agli amici della musica che hanno prettamente una stagione concertistica ha voluto proprio anche dedicare sensibilizzare il pubblico con una pièce di teatro musicale che narra una storia vera la storia vera di questa Fania Fenelon che era una pianista e cantante francese che ha vissuto nell'unica orchestra femminile presente nei campi di concentramento in particolare ad Auschwitz ed è quindi una pièce di teatro musicale dove anche l'orchestra è in scena in quanto è la terza attrice e rappresenta anche un protagonista tra le altre c'è Alma Mahler che dirigeva questa orchestra che tra l'altro era la nipote di Gustav scusate Alma Rosse e la nipote di Gustav Mahler e Fania Fenelon appunto dalla quale tratta l'APS Torna pienamente operativa la Narseri di Ateneo il servizio che l'Università degli Studi del Molise offre gratuitamente a tutti i neogenitori siano essi studenti appartenenti al personale docente o tecnico amministrativo partecipanti ai concorsi o ai periodi di formazione post lauream la Narseri è fruibile per soddisfare tutte le esigenze legate alla cura dei propri bambini da 0 a 2 anni lanciata ieri a Bruxelles l'infrastruttura federale europea per le immagini del cancro che punta ad utilizzare l'intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini dei tumori l'IRCS Neuromed darà il proprio contributo in questo importante percorso vediamo come nel servizio di Caterina Gianfrancesco Le intelligenze artificiali saranno un supporto cruciale nella diagnostica per immagini del cancro dalla rilevazione precoce dei tumori alla valutazione dell'efficacia terapeutica ma queste intelligenze vanno addestrate e come avviene per gli esseri umani l'esperienza è tutto ecco perché il consorzio EUCAIM federazione europea per le immagini del cancro lanciato ieri a Bruxelles punta a raccogliere oltre 60 milioni di immagini diagnostiche questa iniziativa di grande collaborazione tra stati membri vedrà tra i suoi protagonisti il dipartimento di innovazione in ingegneria e fisica dell'IRCS Neuromed l'istituto di Pozzilli parteciperà con la realizzazione degli algoritmi di intelligenza artificiale e con la definizione dei dati PET in stretto coordinamento con l'infrastruttura di ricerca europea Euro Bio Imaging la federazione europea per le immagini del cancro composta da 76 partner provenienti da 14 stati membri è un progetto di infrastruttura rivoluzionario che mira a potenziare l'imaging e l'intelligenza artificiale per la medicina di precisione gli oltre 60 milioni di dati di immagini diagnostiche raccolti naturalmente in forma anonima da oltre 100.000 pazienti saranno cruciali per lo sviluppo e la verifica degli strumenti di intelligenza artificiale l'infrastruttura sarà ulteriormente arricchita da studi osservazionali provenienti dagli ospedali di 21 istituzioni sanitarie in 12 paesi europei includerà immagini diagnostiche e collegamenti con dati clinici molecolari e di laboratorio e sarà espansa ad almeno 30 fornitori di dati distribuiti su 15 paesi entro la fine del progetto della durata di 4 anni EUCAIM è la pietra angolare dell'iniziativa europea per l'imaging del cancro promossa dalla commissione europea un punto fondamentale del piano europeo per sconfiggere la malattia il progetto è guidato da professore Luise Martì Bonmatì direttore del dipartimento di imaging medico presidente di radiologia università ed ospedale politecnico La Fè di Valencia in Spagna e coordinato dall'istituto europeo per la ricerca biomedica in imaging presso la società europea di radiologia a Vienna in Austria per Neuromed dice Nicola D'Ascenso responsabile del dipartimento di fisica medica ed ingegneria la partecipazione a questo consorzio rappresenta un grande risultato il nostro impegno seguirà quelle che sono le linee principali di un centro scientifico come il nostro dice D'Ascenso fare ricerca in stretta connessione con la clinica a tutto vantaggio dei pazienti e puntare su una medicina supportata da tecnologie computazionali capace di affrontare la sfida della prevenzione e della diagnostica precoce il festival della resistenza molisana promosso da un altro Molise possibile arriva alla terza tappa dopo Campobasso e Guglionesi sabato 4 febbraio appuntamento a Isernia con tante altre storie ed esperienze di chi dall'alto al basso Molise ogni giorno lotta per contrastare l'appiattimento culturale l'abbandono delle istituzioni e la mancanza di un piano industriale occupazionale impegnandosi con attività culturali uniche ed originale portando avanti attività artigianali ed imprenditoriali all'avanguardia senza mai dimenticare origini e tradizioni il festival della resistenza nasce con la speranza di poter essere un punto d'incontro e confronto una rete di realtà che sia capace di raccogliere testimonianze e proposte attive l'evento il 4 febbraio alle ore 16 presso lo spazio arte Petrecca decolla il programma della stagione inverniale 2023 promosso dallo ski team Castel Petroso ASD le attività sono state illustrate dal presidente Lucio Giancola vediamo il servizio realizzato da Fabrizio Fusco Balli, musica buona gastronomia e una gigantesca torta farcita al cioccolato oltre un centinaio di presenze compreso il presidente della Fisi Molise Giuseppe Iandolo alla presentazione del programma della stagione invernale 2023 promosso dallo ski team di Castel Petroso ASD sodalizio fra i più dinamici dell'area matesina che da diversi anni si prefigge di coordinare ed organizzare eventi sportivi sulle nevi dell'impianto di Campitello Matese fitto e variegato il calendario annunciato alla platea dal presidente Lucio Giancola il 29 abbiamo in programma una gara dedicata a un nostro carissimo purtroppo amico scomparso che è stato il fondatore del primo sciclub Castel Petroso Angelo Armendi a cui ringrazio e dobbiamo tutto per lo sport a Castel Petroso dopodiché il 4 gennaio inizieranno i corsi di sci alpino il pomeriggio ovviamente dalle 2 alle 4 l'11 sempre il mese di febbraio inizieranno i corsi di sci di fondo sempre su a Campitello Matese dopodiché ci sarà varie ciaspolate varie attività all'aperto in montagna in collaborazione e con Campitello Matese e con il nostro comune su Monte Patalecchia volevo anticipare che il 4 febbraio abbiamo organizzato anche con Matese Ski e il comune di San Massimo un workout in silent su a Campitello Matese quindi per le iscrizioni chi vorrà partecipare che è aperto a tutti sulle nostre pagine Facebook e i nostri social trovate tutti i numeri a cui fare le iscrizioni al quarto Winter Party organizzato da Ski Team all'interno di una sala del bocciodromo di Castelpetroso hanno animato la serata il gruppo molisano dei metamorfosi un momento di aggregazione per le famiglie degli associati insieme ai maestri e ai preparatori tutti fiduciosi per le precipitazioni nevose dei giorni scorsi centimetri preziosi che garantiscono l'efficienza delle piste e una boccata di ossigeno per l'indotto turistico dell'area Matesina quest'anno sembra che ripartano tutti è arrivata pure la famosa neve che aspettavamo da tempo la dama bianca così dicono e ringraziando veramente Dio che ci ha mandato questa neve che aspettavamo così tanto e speriamo che la gente incominci a ritornare a Cambidello visto che con questi anni purtroppo si è un po' allontanata dalle problematiche che ci sono state che sono state risolte grazie a Matisse Schi e a tutte le persone che lavorano in quel comprensorio La mission dello Schi Team Castelpedroso è incentrata a far crescere le giovani promesse del panorama molisano a breve l'implementazione di altre figure specializzate all'interno dello staff tecnico Noi cercheremo innanzitutto con questi corsi di portare avanti nuove generazioni di sciatori dai più piccoli giustamente e proseguire con quelli che già hanno iniziato negli scorsi anni e avevamo in mente di chiamare anche un preparatore proprio per portare avanti un discorso molto più agonistico diciamo E ormai tradizione nella diocesi Termoli-Larino dedicare l'ultima domenica di gennaio alla giornata per la pace promossa dalla consulta diocesana delle aggregazioni laicali l'appuntamento per la preghiera diocesana per la pace è in programma domenica 29 gennaio a Termoli presso l'auditorium Giovanni Paolo II della parrocchia Santa Maria degli Angeli alle ore 15.45 la celebrazione sarà presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca e sarà ispirata dal messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata della pace nessuno può salvarsi da solo ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace E questa era l'ultima notizia adesso passiamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi 25 gennaio variabilità diffusa su tutta la regione con ampi spazi soleggiati specie mattinata nel primo pomeriggio previsto nuovo peggioramento in arrivo dai Balcani con precipitazioni che bagneranno il litorale dalla notte quota neve che nel complesso si attesterà sopra i 1000 metri venti rinforzo da nord-est mare mosso temperature campo basso minima 1 massima 7 Isernia minima 2 massima 9 Termoli minima 9 massima 10 Venafro minima 1 massima 11 previsioni per domani 26 gennaio un nuovo vortice ciclonico richiamerà aria fredda dai Balcani portando ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche su buona parte della regione le precipitazioni tuttavia non saranno abbondanti data la natura secca della massa d'aria possibili fenomeni più intensi a ridosso dei rilievi montuosi esposti ad est per effetto dello stau quota neve al di sopra dei 700-800 metri ma in calo dalla sera specie sul campo bassano venti dai quadranti settentrionali mare molto mosso temperature campo basso minima 2 massima 3 Isernia minima 3 massima 6 Termoli minima 8 massima 10 Venafro minima 4 massima 9 Con il meteo è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti